Un civita vecchiese di 32 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio ai danni di una sedicenne che aveva conosciuto attraverso i social networks e con la quale aveva deciso di condividere il fine settimana. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato e domenica in un bed and breakfast del centro cittadino. Per l'uomo il giudice ha disposto il divieto di avvicinarsi alla ragazza e ai luoghi da lei frequentati. Ha tentato di gettare una ragazza che aveva conosciuto su internet dal balcone di un bed and breakfast. Per questo un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Civitavecchia con l'assistenza dei colleghi dei comandi di Tolfo e Campodimare. L'uomo è gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni di una sedicenne, anche lei italiana, che aveva precedentemente conosciuto mediante i social network e con la quale aveva deciso di condividere il fine settimana. I fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica quando i carabinieri sono intervenuti presso un noto bed and breakfast del centro storico di Civitavecchia dopo che i genitori della giovane avevano chiamato in stato di forte agitazione il 112 affermando che la figlia si trovava in grave pericolo. Quando i militari dell'arma si sono portati presso la struttura ricettiva la loro attenzione sarà immediatamente attirata dalle urla della giovane, aggrappata disperatamente alla ringhiera del balcone mentre l'uomo stava cercando di sollevarla di peso e gettarla oltre il parapetto. Alla vista dei carabinieri il 32enne ha immediatamente desistito dal proprio intento liberando per qualche istante la giovane che è così riuscita ad aprire la porta d'ingresso della stanza e consentire l'accesso alle forze dell'ordine. Negli attimi successivi, mentre la ragazza veniva portata al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, l'uomo che appariva in palese stato di alterazione psicofisica, probabilmente sotto effetto di cocaina e alcol, si è rifiutato di seguire i militari in caserma, distruggendo vari oggetti della struttura e costringendo i militari a contenerlo fisicamente. Successivamente, è stato condotto in caserma e d'intesa con la procura della Repubblica, è stato arrestato e associato nel carcere di Regina Celi. All'esito dell'udienza di convalida tenutasi nel pomeriggio di ieri, il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l'arresto. L'uomo è però tornato libero, nonostante il gravissimo episodio. Il giudice ha previsto solamente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ragazza e ai luoghi da lei frequentati. È il primo giorno di una nuova era, oggi quello della fine di gran parte delle restrizioni che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi due anni per la pandemia causata da Covid. Da oggi è infatti terminato lo stato di emergenza e l'obbligo più importante, rimasto in piedi, peraltro ancora per un mese, è quello di indossare le mascherine nei locali chiusi. L'emergenza è finita sul piano dei provvedimenti legislativi, ma il Covid non ci ha purtroppo lasciati. Anche i numeri diffusi ieri nel quotidiano report, diramato dall'assessorato regionale alla sanità e dalla ASL Roma 4, non lasciano spazio a facili ottimismi. La situazione è infatti peggiorata rispetto ad una settimana fa. Ieri sono stati comunicati 131 nuovi contagi, 53 in più rispetto a quelli che erano stati certificati sette giorni prima. E ciò praticamente a parità di guarigioni, visto che il 24 marzo erano state 92 e ieri 93. Pressoché è uguale anche il numero dei tamponi effettuati, in entrambi i casi di poco superiori a 2.000. Di conseguenza è ulteriormente cresciuto il numero dei soggetti che a Civitavecchia sono attualmente affetti dal virus, 1.158 contro i 1.113 di una settimana fa, con un aumento di 45 unità. Insomma, mantenere alta la soglia di attenzione appare davvero un obbligo. 50 euro per ogni cremazione, altrettanti per la dispersione di ceneri in mare o in altri luoghi naturali. E' quanto dovranno pagare i Civitavecchiesi sulla base di una delibera di giunta varata lo scorso 10 marzo e che tende a riconoscere il lavoro aggiuntivo svolto a riguardo dagli uffici demografici del Comune. Un provvedimento che è comunque destinato a far discutere, considerando che a Civitavecchia, a differenza delle altre città, i residenti non hanno una tariffa agevolata per cremare i propri cari. Arrivano costi aggiuntivi per le cremazioni a Civitavecchia. L'aggiunta comunale, con delibera numero 36 del 10 marzo scorso, ha fissato alcune tariffe per compensare in qualche modo il lavoro aggiuntivo che le cremazioni, in fortissimo aumento negli ultimi anni e alcuni servizi connessi, determinano agli uffici demografici. In particolare è stata istituita una tassa di 50 euro per il trasporto della salma in un altro comune. Analoga spesa di 50 euro dovranno sostenere i Civitavecchiesi per la cremazione di un congiunto e andranno aggiunti altri 50 euro se successivamente avrà luogo la dispersione delle ceneri in mare o in natura. Il costo della cremazione arriva a 100 euro per i non residenti, che dovranno invece pagare al comune 200 euro se vorranno disperdere le ceneri in mare o in natura. Il gettito annuo previsto si aggira sui 30.000 euro che entreranno direttamente nelle casse del comune. C'è da dire che per quanto riguarda nello specifico i residenti il provvedimento desta qualche perplessità, non tanto per la sua natura quanto perché i Civitavecchiesi non hanno alcuna agevolazione rispetto ai forestieri che usufruiscono del servizio del forno crematorio che si trova al nuovo cimitero. Come avevamo già avuto modo di evidenziare al momento dell'entrata in funzione dell'impianto sulla Braccionese Claudia, risulta stonato il fatto che il comune non abbia, al momento della convenzione, preteso alcuna differenziazione di costo tra residenti e non residenti. Avevamo allora dimostrato che a Viterbo c'è una differenza enorme tra residenti e non residenti. All'epoca, parliamo di quattro anni fa, la cremazione di un viterbese costava 125 euro, mentre quella di un forestiero ne costava 430, oltre alla tassa pretesa dal comune della Tuscia, di poco superiore ai 100 euro per consentire il transito della salma nel territorio cittadino. A Civitavecchia invece una cremazione costa 549 euro sia ai residenti che ai non residenti. Adesso a quella cifra si aggiungono anche ulteriori 50 euro fissi che vanno al comune e che magari potevano essere evitati. Organizzazioni sindacali del settore trasporti sul piede di guerra contro gli emendamenti presentati sul decreto legge e concorrenza da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Italia Viva. Secondo i rappresentanti dei lavoratori, gli emendamenti porterebbero a una deregolamentazione dell'intero settore mettendo a repentaglio migliaia di posti di lavoro. Il segretario nazionale della Filt CGL, Natale Colombo, annuncia che non si esclude il blocco delle banchine a fronte di un provvedimento svolto a smontare un modello di flessibilità regolamentata del lavoro per favorire veri e propri regimi di monopolio. Colombo aggiunge che in sindacati contrasteranno ancora più determinati anche l'attacco alla legge sull'autoproduzione delle operazioni portuali, che con un preciso emendamento intende assecondare l'obiettivo di qualche armatore interessato ad azzerare quanto stabilito anche a livello internazionale, ovvero che i lavoratori portuali fanno i portuali e i lavoratori marittimi fanno i marittimi. Il massimo esponente della Filt CGL si dichiara pronto a chiamare in causa lo stesso Ministero delle Infrastrutture, che a dicembre scorso ha sottoscritto un importante protocollo di intenti con i sindacati, riconoscendo la specificità del lavoro portuale e la necessità di salvaguardarlo e rafforzarlo. Il porto di Civitavecchia resterà saldamente al primo posto della classifica italiana per quanto riguarda il traffico croceristico. Lo conferma l'annuale report condotto da Risposte Turismo e riferito all'anno in corso, durante il quale dovrebbero essere in parte recuperati i volumi di traffici pre-pandemia. Infatti, secondo le stime di risposta e turismo, nel 2022 dovrebbe diminuire ulteriormente il gap con il 2019, con un meno 39% di passeggeri e un meno 12% di attracchi rispetto all'ultima stagione pre-pandemia. Riguardo al 2021, la classifica dei porti mediterranei per traffico passeggeri conferma la lievissima prevalenza di Barcellona su Civitavecchia, con rispettivamente 520.519.000 passeggeri e che Genova è il porto che ha visto coinvolti il maggior numero di croceristi in operazioni di imbarco-sbarco, pari a 228.279. A seguire Civitavecchia, con 179.621 imbarchi-sbarchi, Il cosiddetto porto di Roma ha però mantenuto il primo posto dei passeggeri complessivi 339.439 contro i 189.065 di Napoli e i 188.107 di Genova. Grande attesa per il match in programma questa sera al Palade Angelis di Santa Marinella e che vedrà Emiliano Marsili impegnato sul ring a conquistare la cintura dell'Unione Europea dei Pesi Leggeri. L'avversario di turno è il forte spagnolo di origini peruviane, Frank Urchiaga, che ha già affrontato i migliori pugili a livello continentale della categoria. In caso di vittoria, per Marsili si potrebbero aprire ancora orizzonti extra-europei. Una gara per riannodare i fili dopo la brutta prova contro il Tuscolano. Riparte in questo modo la NC Civitavecchia in serie A2 di pallannuoto maschile, che domani alle 15 riceverà al Palagalli l'Ancona. Una curiosità, questa è la gara di ritorno, ma quella di andata deve essere ancora giocata dopo i due rinvi degli scorsi mesi. Il set di Pagliarini e Baffetti è sempre sul fondo della classifica ed ha necessario bisogno di strappare punti a tutte le avversarie dirette nella lotta per non retrocedere. Seconda gara a casalinga consecutiva al Palapanzani di Ladispoli per la Margutta Civitalad nel campionato femminile di serie B2 di pallavolo. Domani alle 16.30, primi scambi per il match contro le Toscane del Nottolini. Con la situazione salvezza ormai compromessa, la formazione di Pietro Grecchi scenderà in campo per cercare l'appuntamento con la vittoria, che manca ormai da quattro mesi. Match interno per la futsal Civitavecchia in serie C1 di calcio a 5 maschile. Domani alle 15.30 a Lottatori arriverà la Ranova. Si tratta di una squadra di grande spessore, che in questa stagione non è riuscita ad esprimere pienamente il suo potenziale. Ed i nerazzurri non vogliono brutte sorprese, per cui devono cercare di offrire una prova convincente per continuare a rimanere seduti al secondo posto della graduatoria. Prima di salutarvi vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it www.trc doc.ee.it Prego! Prego! Grazie a tutti